Buonasera, bentrovati alla seconda edizione del Tg6 che apriamo parlando di politica perché il consigliere comunale dell'Aquila Giorgio De Matteis accusa il presidente della regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso, di aver predisposto un masterplan per il Sud con poche opere condivise e per di più inutili per il capoluogo regionale. Filippo Tronca. Il sindaco Massimo Cialente è un ologramma ad Alfonso, non mi incanta con il suo eloquio tardo ottocentesco, la verità è che nel masterplan per il capoluogo dell'Aquila c'è poco e non c'è quello che serviva. Torna all'attacco il consigliere comunale di opposizione Giorgio De Matteis che replica al presidente D'Alfonso che lunedì all'Aquila ha preso parte al consiglio comunale straordinario dove ha elencato le opere strategiche previste in Abruzzo e nel capoluogo in un'ottica di una più ampia interconnessione territoriale. Visita tardiva, osserva però De Matteis, visto che al giorno il masterplan sarà approvato dal governo e i giochi sono già chiusi. Inoltre in calza De Matteis nell'elenco non basta aver aggiunto 10 milioni di euro di piste ciclabili, tanto cara al consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci per poter rendere accettabile un masterplan non condiviso con il territorio, finanziato, sottolinea De Matteis, ex consigliere regionale, con fondi già disponibili e trovati dal centrodestra di Gianni Chiodi. La riunione in consiglio comunale, ahimè, purtroppo ha sancito in maniera inequivocabile ciò che noi sospettavamo e cioè che questo masterplan per quanto riguarda l'Aquila è davvero inconsistente e per alcuni aspetti anche imbarazzante. Abbiamo appreso finalmente, dopo che il buon D'Alfonso aveva dato per certo che i 20 milioni del centro per le malattie rare della vista sarebbero stati all'Aquila, che sono a Chieti, abbiamo appreso che l'aeroporto dell'Aquila, considerato da lui in una delibera dell'anno scorso come struttura strategica fondamentale per le infrastrutture in Abruzzo, non è finanziato, i soldi per la viabilità all'Aquila vengono da interventi precedenti, per quanto riguarda i 10 milioni dati a Colle Maggio siamo al ridicolo perché vengono assegnati 10 milioni senza sapere a che cosa debbano servire e via discorrendo per arrivare fino all'ultima perla che è la mancata approvazione da due anni a questa parte di questa famosa legge l'Aquila-Capoluogo. Noi abbiamo proposto una serie di iniziative che potessero entrare nel masterplan in maniera seria. Quali le ricordiamo? Certo, le ricordiamo, anche perché Cialente abbiamo appreso anche dalle parole di Alfonso che mai è stato contattato e non è mai si è occupato del masterplan, anzi tutt'altro perché accettare supinamente queste vessazioni nei confronti della città è tipico solo di Cialente che continua a fare lo zerbino di questa amministrazione regionale, al contrario di quello che faceva in altre epoche. Cambiamo pagina per la funzione pubblica CGL di Teramo, qualcosa non va nel sistema dei bandi e delle assunzioni dell'ASL a Prutina. Vediamo il servizio di Elisa Leuzzo. Assunzioni a tempo, bandi sospesi e diritti di precedenza ignorati dalla ASL è quanto denuncia la CGL di Teramo. Il riferimento, nel caso specifico, è ai 21 posti da addetti all'emissione dati, 5 da centralinisti telefonici, il resto da magazziniere. Nel caso dei centralinisti, la CGL fa notare che nonostante il bando fosse per un'assunzione per un anno, a febbraio 2015, le assunzioni vengono fatte a tempo determinato per tre mesi, con tre proroghe, fino a giugno, fino a settembre e fino a novembre scorso. La legge dice che se un ente pubblico nel giro di un anno assume per quel profilo professionale, chi ha il diritto di precedenza può fare richiesta. Questi 15 lavoratori l'hanno fatto. Nel frattempo, che cosa è successo? L'Alz ha annullato quella gravatoria, non ha assunto questi 15 lavoratori e cosa ancora più grave, dal momento in cui la legge prevede che comunque per i posti dove l'ente pubblico assume deve andare nella piattaforma della provincia, cosa che non ha fatto. Quello che noi denunciamo questa mattina è questo stato di cose. L'Alz ha la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato e non lo fa. Ci chiediamo perché, perché continuano ad assumere tramite le cooperative e tramite l'agenzia etica. In più occasioni, la CGL ha scritto alla ASL rammentando che per molti vale il diritto di precedenza nelle assunzioni, ma non ha ottenuto risposta. E ora torniamo ad occuparci della discarica di Villa Carmine. Ieri oggetto di un sopralluogo da parte dei tecnici, le analisi effettuate dall'Istituto Zoprofilattico Abruzzo Molise hanno rilevato livelli alti di Escherichia Coli. Nelle vongole il primo cittadino di Montesilvano, Francesco Maragno, ha così emesso un'ordinanza che vieta il consumo dei molluschi bivalvi raccolti lungo il litorale. Francesca Romanatesti. Ancora un sopralluogo sulla discarica di Villa Carmine a Montesilvano. Dopo il sequestro effettuato dalla Capitaneria di Porto di Pescara, a partecipare ieri c'erano Regione, Comune e D'Arta in qualità di consulente tecnico. Una ricognizione tecnica nel corso della quale l'attenzione è stata concentrata lungo l'argine e l'alveo fluviale e dove sono state rilevate alcune situazioni che necessitano di ulteriori verifiche geologiche al fine di valutare gli interventi più adeguati da porre in essere. Il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, ha poi voluto ricordare che la discarica di Villa Carmine si trova su un sito che ricade, per la maggior parte, su un'area demaniale e per la restante su una di competenza comunale. Per la messa in sicurezza della discarica, infatti, e la risoluzione definitiva delle criticità, sono necessarie rilevanti somme, attualmente non nelle disponibilità né dei bilanci comunali né di quelli regionali. Nonostante le difficoltà, le istituzioni hanno annunciato un lavoro sinergico per poter arrivare, in tempi brevissimi, alla soluzione dell'emergenza affinché venga garantita la tutela della salute dei cittadini, poiché priorità assoluta è stata data alle attività di bonifica. Nel frattempo, dopo le analisi dell'Istituto Zooprofilattico, il primo cittadino ha emesso una nuova ordinanza che ha declassificato i molluschi bivalva raccolti sul litorale del tipo vongole da A a B, vietandone cioè il consumo diretto, poiché, secondo le analisi, avrebbero registrato valori fuori norma di Eschirichiacoli, che è l'indicatore primario di contaminazione fecale. E siamo alla cronaca, parliamo subito di un fatto accaduto questa mattina a Piazzano di Atessa, dove un uomo di 79 anni è rimasto ferito in un incidente stradale, l'uomo è stato investito da un'auto, è stato soccorso dai sanitari del 118 e poi trasferito in elisoccorso all'ospedale di Teramo con un trauma cranico sulle cause dell'incidente. Indagano i carabinieri e parliamo ancora di cronaca, che arresta ai domiciliari il 49enne della provincia di Teramo, arrestato dalla polizia postale per pedopornografia. A stabilirlo questa mattina al termine dell'udienza di convalida, il GIP Domenico Canosa, che ha confermato la misura dei domiciliari. Nell'udienza l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere. E noi torniamo a parlare di politica, perché il governatore della regione, Luciano D'Alfonso, questa mattina ha incontrato i sindaci dei comuni costieri per discutere dei finanziamenti per la salvaguardia delle coste, per combattere il fenomeno dell'erosione. In arrivo 580 mila euro per gli interventi urgenti. D'Alfonso ha incontrato anche i rappresentanti dell'Ordine dei Geologi. La giunta regionale finanzierà con 580 mila euro i comuni del litorale abruzzese per consentire gli interventi urgenti di ripristino degli arenili in vista della stagione turistica estiva. Lo ha ribadito il presidente della giunta regionale, Luciano D'Alfonso, che insieme all'assessore Di Matteo ha incontrato questa mattina a Pescara i rappresentanti delle amministrazioni comunali costiere. Per il programma delle opere, la regione ha richiesto un finanziamento complessivo al Ministero dell'Ambiente di 58 milioni di euro. Domani, ha sottolineato D'Alfonso, è prevista a Roma la riunione della cabina di regia istituita dal Governo per la programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Si tratta di un intervento tampone, ha spiegato Di Matteo, in attesa che vengano rimessi i pareri della soprintendenza ai beni paesaggistici sui progetti presentati dalle amministrazioni locali diversi mesi fa. Sempre nel corso della mattinata il Governatore ha affrontato in una riunione la questione del potenziamento del ruolo dell'autorità di bacino regionale su richiesta dei rappresentanti dell'Ordine dei Geologi regionale. Nell'incontro è stato chiesto anche un aggiornamento delle leggi regionali di riferimento in vigore dal 2005 che non terrebbero conto delle novità introdotte con le recenti modifiche alla normativa nazionale. Il Presidente dell'Ordine regionale dei Geologi, Nicola Tullo, ha spiegato come la riforma nazionale del settore abbia accorpato l'autorità di bacino d'Abruzzo a quella del Lazio, prevedendone la sede a Roma senza tenere conto della diversità dei territori delle due regioni. Il Presidente D'Alfonso ha invitato l'Ordine dei Geologi a predisporre un documento riepilogativo contenente tutte le richieste che sarà discusso in una prossima riunione da convocarsi a breve e a cui parteciperanno anche gli assessori regionali di riferimento, i dirigenti dei servizi preposti a queste tematiche, il Direttore del Dipartimento Opere Pubbliche, Governo del Territorio e Politiche Ambientali della Regione. E noi torniamo a Teramo per le manutenzioni delle strade comunali servono almeno 2 milioni di euro così il gruppo consigliare di Futuroin chiede al Sindaco così di contrarre un mutuo. Assessore Di Stefano dopo essere stato attaccato personalmente sulle manutenzioni stradali che mancano qui sull'intero territorio comunale il gruppo di Futuroin chiede al Comune di Teramo di contrarre un mutuo da 2 milioni di euro per le manutenzioni stradali vi aspettate una risposta positiva? Allora, guarda attaccato personalmente sì perché sono io la figura che ha quella delega però è chiaro che era un attacco all'intera amministrazione che di manutenzioni per quello che riguarda quelli stradali almeno quando ci vengono questi tipi di lamentere sono state fatte pochissime in questi anni ho detto più volte il perché perché ci siamo concentrati sulle manutenzioni degli edifici scolastici quindi è una decisione che abbiamo preso tutti quanti insieme però sapevamo che adesso che prima o poi arrivava il momento che dobbiamo concentrarci maggiormente dando la priorità alle manutenzioni stradali quindi tra virgolette agli asfalti per questo Futuroin ha ribadito questa cosa ma che non penso che nella maniera più assoluta ci possano essere problemi perché è una cosa che faceva parte del programma del sindaco e che condividiamo tutti quanti quindi su questo siamo tutti d'accordo adesso come ci si arrivi chiaramente va ragionato può essere un programma in là negli anni quindi fatto con la contrazione di un mutuo può essere utilizzando i soldi della contrattazione dell'antenne può essere utilizzando i fondi della vendita dell'immobile qualsiasi esso sia l'entrata poi che andrà utilizzata comunque il concetto che bisogna concentrarsi sulle manutenzioni stradali è stata fatta una valutazione che per fare un programma serio di manutenzioni chiaramente nel tempo che non è una cosa che poi sviluppi in due o tre mesi quindi almeno con un paio di anni diciamo che con un paio di milioni di euro c'è la garanzia che nel giro di un paio di anni riesci insomma a sistemare molte situazioni per quelle che sono le strade della città e andiamo a Chieti dove è entrato in funzione il servizio a domicilio del Pra Pubblico Registro Automobilistico l'iniziativa nasce da un progetto che punta ad offrire sostegno a tutti coloro impossibilitati a recarsi negli uffici per il disbrigo delle pratiche automobilistiche protocollo di intesa tra ACI e Comuni di Chieti in favore delle politiche sociali non è la prima volta infatti che l'amministrazione di primio diventa comune pilota di iniziative a carattere nazionale in questo caso si parla di servizio a domicilio Pra dedicato a quelle categorie considerate più deboli come anziani, disabili, malati e anche detenuti si parla di una rete messa in campo per offrire più servizi verso i cittadini con questa iniziativa l'amministrazione comunale e ACI anziché svolgere le pratiche in ufficio ma va verso il domicilio verso la residenza di alcune categorie di persone in particolare disabili e ammalati o anche detenuti in particolare situazione di costrizione o privazione della libertà fisica gratuitamente cioè senza costi aggiuntivi rispetto a quelli che sarebbero della ordinaria formalità li va a svolgere direttamente a domicilio della persona che è in possibilità da venire negli uffici l'ACI renderà possibile la prenotazione online o presso gli uffici a tutte le categorie interessate che potranno concordare giorno e orario della visita dei propri tecnici che sottolineano a scanso di equivoci e possibili raggiri saranno dotati tutti di cartellino identificativo e il nome degli stessi verrà comunicato durante la prenotazione Noi oggi il sindaco e il direttore compartimentale ratificheranno con la sottoscrizione del protocollo e quindi nell'immediato verrà attivata tutta l'attività di promozione e divulgazione così come tutti i servizi che il comune di Chieti svolge anche nell'ambito del settore anagrafe qualsiasi iniziativa venga svolta a vantaggio della cittadinanza sono immediatamente esecutivi Sono sportelli dedicati che sono sia online quindi verranno messe tutte le indicazioni sul sito del comune e con i recapiti telefonici e naturalmente all'ACI direttamente all'ufficio territoriale che per competenza svolgerà le attività sul territorio E ora parliamo del Vinitali perché la città dell'Aquila ospiterà dal 26 al 28 maggio prossimi la quindicesima edizione del concorso enologico internazionale la selezione del sindaco a cura dell'associazione Città del Vino Vediamo il servizio La città dell'Aquila ospiterà dal 26 al 28 maggio prossimi la quindicesima edizione del concorso enologico internazionale la selezione del sindaco a cura dell'associazione Città del Vino L'iniziativa è stata presentata questa mattina al Vinitali di Verona nell'area istituzionale della regione Abruzzo alla presenza dell'assessore regionale alle politiche agricole Dino Pepe del presidente dell'associazione Città del Vino Floriano Zambon e del sindaco di Tarantapeligna Marcello Di Martino in qualità di responsabile organizzativo dell'evento la scelta dell'Aquila scaturisce dalla volontà di rilanciare il capoluogo abruzzese e favorirne la rinascita dopo il sisma del 2009 l'assessore regionale Dino Pepe è soddisfatto per l'evento Abbiamo raccolto volentieri questa proposta dell'associazione nazionale Città del Vino per organizzare in Abruzzo in maniera particolare all'Aquila questo concorso importante che si ripete da tanti anni l'anno scorso l'edizione è stata svolta a Lisbona quest'anno all'Aquila 26, 27 e 28 maggio prossimo le città del vino attraverso il vino dei propri territori promuovono il territorio il comparto i luoghi dove le nostre imprese vitivinicone svolgono il proprio lavoro iniziativa assolutamente importante avremo oltre 80 giudici internazionali che saranno presenti all'Aquila tre giorni per analizzare le oltre 200 aziende che parteciperanno a questo importantissimo premio internazionale e andiamo avanti con il nostro telegiornale si è risolta questa mattina a Teramo la cerimonia di commemorazione in onore di Erminio Castelli ed Elio De Cupis medaglia d'oro alla resistenza e Sergio Guacchierato i tre giovani partigiani terramani fucilati dai fascisti il 13 aprile del 1944 nel cimitero di Cartecchio la libertà è un bene assoluto la libertà non si conquista una volta per tutte ma va difesa la libertà ogni giorno con forza con determinazione perché i nemici della libertà sono sempre in acqua viva Elio De Cupis viva Erminio Castelli viva Sergio Guacchierato pensate e concludo veramente questi ragazzi lo diceva Topitti in treno arrivavano a 60 anni una cerimonia di commemorazione per ricordare i partigiani fucilati a Cartecchio nel 72esimo anniversario della loro morte Lampi coinvolge i giovani per non dimenticare grazie alla collaborazione soprattutto dei molti dirigenti scolastici di tutta la provincia di Termi in particolare del Capoluogo che queste iniziative sono partecipate e si riesce a mandare quello che è il messaggio diciamo della resistenza attraverso l'esempio di coloro i quali furono i protagonisti Elio De Cupis respira ancora e qui raggiunge le vette più alte dell'eroismo partigiano questo ragazzo ha la forza di gridare ai suoi carnefici vigliatti vi avevo detto che non sapeva delmeno sparare il caporrione fascista che era presente all'ecidio facendo che non bisogna dare il colpo di grazia e il colpo del ragazzo buttato in una cassa improvvisata che era ancora ansimante riflettete su queste cose carissimi giovani e fatevi accompagnare dai vostri insegnanti al cimitero di Carteggio li trovate tre tombe di questi tre eroi e noi andiamo a Chieti perché Comune di Chieti e associazioni sportive podistiche hanno raggiunto l'accordo per il pagamento delle quote sull'utilizzo dello stadio Guido Angelini definito un piano per risanare il debito accumulato negli ultimi anni pace fatta tra associazioni sportive e Comune di Chieti sul caso Stadio Angelini la querela era nata da un lato per il mancato pagamento di quote e di mantenimento dei servizi negli scorsi anni e dall'altra dall'aumento delle stesse nel bilancio di previsione di quello in corso il sindaco di Primio incontrati tutti gli attori è riuscito a fare fronte comune e giungere ad un chiarimento poi la soluzione l'abbiamo trovata noi l'abbiamo trovata noi con loro la soluzione è quella che abbiamo potuto maturare in ragione del fatto che i costi di gestione dello stadio sono più bassi di quelli che erano stati preventivati e quindi si è potuto rivedere le tariffe nel modo in cui volevano le società ma le società anche debbono comprendere che un bene pubblico non può essere utilizzato soltanto perché si fa un'attività meritoria va utilizzato è giusto che lo utilizzi chi fa attività meritoria di carattere sportivo in questo caso ma è anche giusto che si sostengono i costi che poi la comunità deve mantenere perché ci siano quelle strutture aperte resta ancora aperta la definizione dei canoni arretrati che dovranno essere rivisti dai funzionari comunali per constatare l'effettivo importo il debito è diverso da società a società ed è un debito che anche a mia veduta va invece rimodulato perché quello che è stato richiesto alle società in realtà appoggia su un modello di quantificazione che a mio avviso è sbagliato quindi hanno sbagliato gli uffici comunali evidentemente ad adottare quel criterio va rivisto e va fatto pagare il giusto alle società sportive e apriamo la pagina sportiva il calcio per parlare del Pescara che si prepara all'anticipo di venerdì sera con il Cesena allo Stadio Adriatico gara che inizierà alle 21 oggi allenamento al Poggio degli Olivi ancora fermo a scopo precauzionale Caprari che dunque è in dubbio per la gara con i Romagnoli si sono allenati regolarmente Zampano e Zupalic e dunque dovrebbero essere disponibili per la partita contro la formazione bianconera ancora differenziato per la Padula Memusciai e Mazzotta fermo a resti giocherà in porta Fiorillo per quanto riguarda l'ultima parte della seduta non ci sono stati altri problemi con il tecnico che ha fatto svolgere una partitella a ranghi misti intanto domani pomeriggio alle 17.30 nella sala cascella dell'Aurum verrà presentata una mostra fotografica sugli 80 anni del Pescara e verrà svelata anche la maglia celebrativa che verrà indossata dai biancazzurri nella gara Pescara-Brescia in programma tra tre settimane allo stadio Adriatico vediamo il servizio di Andrea Costantini Vittorino ormai sei giovane ma quasi quasi sei tre più esperti almeno giudicare la difesa di Avellino ma tre più esperti non credo dai sono soltanto due partite che comunque stiamo facendo bene io sono contento per questo momento per le mie prestazioni ma soprattutto per aver vinto queste due partite che erano fondamentali per ritirarci un po' su dalle ultime prestazioni Com'è stata la partita di Avellino? È stata una partita dura perché comunque sapevamo che loro l'avrebbero messa sulla fisicità lanciando molti palloni alti e quindi approfittando delle spizzate e della qualità di Castaldo davanti siamo stati bene abbiamo lavato bene di reparto e quindi siamo riusciti a portare a casa la vittoria serviva a vincere sia per la classifica perché comunque è sempre più corta e quindi adesso arriva il duro comunque perché abbiamo queste partite che sono tutti scontri diretti già a partire da Cesena che sarà sicuramente una partita molto difficile e quindi abbiamo fatto bene siamo stati bravi a vincerle ma adesso non dobbiamo mollare e dobbiamo continuare su questa strada Altre volte hai glissato però ti rifacciamo questa domanda è possibile che in Lega però non hai trovato un minuto come mai? si diceva perché fossi troppo spesso convocato e non lavoravi troppo con il gruppo questo non penso proprio sia questo il problema anche perché venimo convocato in nazionale non da qualche altra parte e quindi non lo so il problema ve lo ripeto non lo so qual è stato magari il mister non si fidava però va benissimo così adesso sono molto contento di essere tornato e quindi mi fa molto piacere comunque anche per queste ultime prestazioni senti probabile una tua conferma anche per la prossima partita affronterai Ciano o Ragusa insomma sono giocatori molto forti sì devo iniziare a preparare mentalmente da subito perché sono sicuramente giocatori molto forti queste ultime queste partite che affronteremo ci saranno sempre giocatori forti in attacco quindi bisogna fare veramente il massimo e lavorare duro Siamo a Lanciano mattinata speciale per i rossoneri per l'iniziativa tra i banchi Cevirtus il presidente Valentina Maio il responsabile marketing Michele Lascala il tecnico Tommaso Di Biccari Di Francesco Cragno Turchi Giandonato Rocca e Aquilanti sono stati impegnati in questa iniziativa vediamo il servizio Un problema mentale insiste ancora su questo aspetto il tecnico Primo Maragliulo che si assume le responsabilità principali per la miniserie di tre sconfitte consecutive che hanno reso di nuovo preoccupante la classifica della Virtus Lanciano che ad oggi è ancora al di fuori della zona play out retrocessione ma già nelle prossime ore potrebbe tornarci se dovesse arrivare la temuta penalizzazione responsabilità perché a detta dello stesso tecnico non ha saputo motivare il gruppo che specie nelle gare casalinghe con Perugia e Dentella ha fallito l'approccio alla partita e non ha messo la giusta determinazione e cattiveria è pur vero che la rimonta delle giornate precedenti è stata impetuosa con un ritmo addirittura da promozione ed è in realtà normale che la Virtus abbia pagato il grosso sforzo anche mentale tanto che forse qualcuno ha pensato che il più per la salvezza era stato fatto è evidente che non è così perché fermarsi in questo momento della stagione è sempre deleterio e lo è ancora di più per una squadra che potrebbe subire una penalizzazione allora per ritemprare il gruppo e su questo Maragliulo potrebbe agire l'inserimento di elementi freschi e che hanno voglia di fare anche con qualche limite potrebbe essere un tocca sana giocatori come Milinkovic Giandonato Bonazzoli aspettano la loro chance così come concedere una giornata di stop almeno dal primo minuto a chi sembra un po' in debito d'ossigeno come Marilungo in attesa dello sprint finale potrebbe essere un'idea lo sconto diretto di Latina costituirà un banco di prova perché determinate scelte saranno obbligate la difesa è ai minimi termini Rigione alle prese con la fascite plantare è monitorato quotidianamente si cerca un difficile recupero anche perché con Boldor riduce dall'operazione e con Aquilanti a mente squalificati l'unico centrale arruolabile è Di Filippo in mediana proprio Giandonato avrà la sua opportunità con Bacinovic appiedato sulla strada della Virtus due tecnici dal recente trascorso prima Carmine Gautieri e poi Marco Baroni Gautieri è stato chiamato a risollevare le sorti del Latina anche se una svolta consistente non c'è stata sei punti per lui in altrettante partite anche per Gautieri il match con il suo recente passato è uno snodo cruciale di questo finale di stagione e il pomeriggio del Francioni promette di essere carico di tensione Noi siamo alla pagina della Lega Pro per parlare dell'Aquila che prosegue il ritiro di Amar e ieri c'è stato il primo allenamento diretto dal neo allenatore della formazione rosso-blu modica vediamo il servizio di Gianmarco Menga voglio la massima disponibilità dei calciatori posso garantire che suderanno la maglia in ognuna di queste quattro finali poche parole ma incisive quelle del nuovo allenatore dell'Aquila Giacomo Modica presentato ad Amatrice dove la squadra è in ritiro per preparare la prima delle ultime quattro gare della stagione in programma domenica al fattori contro il Siena Modica ha subito lavorato sul campo di Amatrice con la sua nuova squadra ma la domanda delle ultime ore è come giocherà la sua L'Aquila storico collaboratore della Boemo Zeman il marchio di fabbrica è il 4-3-3 ma sul modulo tattico da utilizzare per questa avventura il neotecnico rosso-blu spiega io penso che ci siano le condizioni per poterlo fare ma poiché non voglio stravolgere a grandi linee quello che è stato il loro percorso fino adesso ho bisogno anche di parlare un po' con loro parlare un po' con loro e capire se la disponibilità è totale eventualmente da avere la possibilità di fare quello che io ho in testa perché ribadisco non c'è allenatore al mondo bravo se non ha disponibilità da parte dei giocatori ce n'è bravi di talento bravi che probabilmente in questo momento hanno bisogno di una scossa un qualcosa di diverso perché di domenica è un giocatore importante perna è un giocatore importante ceccarelle è stato un giocatore importante bisogna ripristinare un po' bisogna ripristinare un po' quello che il sapere cosa passa per la testa adesso a questo ragazzo ma io conto di recuperarlo spero nella sua volontà Sosa è un giocatore importante non me ne vogliano gli altri ce n'è i giocatori bravi che possono dire la loro in questa campionata e quindi siccome non si gioca a livello individuale ma si gioca a livello di gruppo mi aspetto che il gruppo mi venga dietro e ognuno faccia la propria parte chi ha 6 da 6 il 6 lo porteremo a 6 e mezzo una cosa è certa suderemo la maglia quello è sicuro poi non so dove arriveremo ma la maglietta la suderemo siamo al Teramo la gara Teramo-Lucchese in programma domenica prossima 17 aprile alle 15 allo stadio Bonolis e valevole per la 31esima giornata di campionato sarà diretta da Andrea May di Pesaro coadiuvato dagli assistenti Simone Assante di Frossinone e Leonardo De Palma di Termoli non si ravvisano precedenti per la Terna con i colori bianco-rossi bianco-rossi che vogliono chiudere bene la stagione vediamo il servizio non c'era niente nel senso non abbiamo sbagliato tutto ma soprattutto abbiamo sbagliato l'atteggiamento mentale che penso che sia quella cosa più importante di tutti se non hai l'atteggiamento giusto se non hai la concentrazione giusta rischi di fare delle figure bruttissime per non dire altro però è pure vero che poi nel secondo tempo penso che abbiamo buttato il cuore al di là dello stagolo perché abbiamo fatto penso un miracolo vero e proprio spero che ci serva la lezione perché ci sono altre 4 partite quindi come ho detto anche la scorsa volta se non hai l'atteggiamento giusto è meglio stare a casa bisogna finire alla grande e la grande significa finire cercando di fare 4 vittorie fin quando sono stato lì ho sempre fatto il massimo quello che poi ci cerco di dare ogni domenica purtroppo lì erano al di là non erano calcistiche le motivazioni per cui sono andato via quindi non sono in pianto ecco sono contento per i miei compagni perché comunque ho un ottimo rapporto con tutti loro quindi vederli lottare per qualcosa di importante sono veramente contento per loro però a livello personale no assolutamente no anzi mi dispiace essere venuto e non non avere come posso dire contribuito a fare qualcosa magari più importante qui ecco quello sì però no assolutamente no qui ancora non ho avuto la possibilità di parlare con nessuno però se mi venisse chiesto il che cosa ne pensare cioè che cosa ne penso di poter rimanere sono assolutamente soddisfatto ecco di di poter parlarne per poter poter continuare perché no questo era l'ultimo servizio della nostra seconda edizione del TG6 vi ricordo la terza sempre questa sera alle 23 ma non perdete alle 21 l'appuntamento con Virtustyle per parlare delle vicende rossonere del Lanciano e saranno ospiti questa sera in studio nello studio di Alessio Gian Cristofaro i quattro candidati sindaci di Lanciano per il momento è tutto grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata grazie per aver guardato